Nel post partita il primo a presentarsi in sala stampa è il presidente della Lega Serie B, Andrea Abodi. Per me è stata un'emozione grande, non facendo il tifo per nessuno io mi sono preso il meglio. E quindi l'emozione in campo ma soprattutto sugli spalti. Devo fare i complimenti a chi ha vinto ma veramente grandissimo onore anche a chi ha vinto sul campo oggi e torna a casa, questa è la formula purtroppo. Subito dopo tocca a Massimo Rastelli che incassa la vittoria che però non garantisce l'accesso alla finale promozione e parla già di futuro. Ad oggi nessuno mi ha contattato e quindi vediamo quello che succederà nelle prossime settimane. Devo anche naturalmente valutare quelle che sono le intenzioni della società pur avendo un contratto a scadenza del 2016 naturalmente bisogna che i programmi poi combacino e si vada come sempre tutti insieme in un'unica direzione. E' stato autore di una prestazione strepitosa Marcello Trotta che commenta così la vittoria amara dei Biancoverdi. Sono contento diciamo dei gol però alla fine come tutti abbiamo visto non è bastato però era importante per me diciamo ritornare al gol però percato per il risultato. Sappiamo che i nostri tifosi ci seguono dappertutto, oggi più delle altre volte l'abbiamo visto però è stato un onore uscire dal campo tra gli applausi anche dei tifosi avversari.